L'arbitro richiama Agler ad alzare la presa di colpi, incrociato dal gatto di nido di Mukabi, il gatto di nido di Mukabi ha incrociato Agler che peraltro continua ad andare in avanti, a scagliare colpi terribili, il gatto di nido, Mukabi sulle corde, il gatto destro due volte di Agler, si aggrappa Mukabi, Agler ancora in avanti. Il gatto sinistro di Agler, poi il destro, grandissimo l'orgoglio, la resistenza di Mukabi, ma Agler ha maggior precisione, maggiore continuità, il gatto sinistro di Mukabi due volte, incredibile battaglia, montante destro di Agler, il gatto sinistro, manca il gatto sinistro, il gatto destro di Mukabi. Il gatto sinistro di Mukabi, quello sinistro di Agler, il gatto sinistro di Mukabi, ora ha abbandonato ogni prudenza Mukabi, tocca col destro. Non ho mai visto un incontro di questa violenza, negli ultimi vent'anni, montante destro di Mukabi, il sinistro la figura, il gatto sinistro di Mukabi, il sinistro di Agler. Incredibile, incredibile, una delle più belle riprese, a cui mi chiamato mai di assistere, è la mia carriera.